Ciao a tutti, oggi vi portiamo con noi da Primark alla scoperta degli accessori primavera e estate, ovviamente per ragazze iniziamo con gli orecchini, come vedete ci sono un sacco di orecchini un sacco di set di orecchini soprattutto piccolini e come vedete sono molto 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 economici ma anche molto 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 carini quindi chiamano proprio l'acquisto, per il mare sono ottimi un pochino più grandi, ci sono anche con dei cerchi il materiale devo dire che si è un misto tra questa sorta di ferrino e plastica, raffia, legno, molto molto carini quelli di legno soprattutto come vedete c'è di tutto, vanno ancora di moda i set di collane a più lunghezze gli orecchini con le nappine, quelli appunto a cerchio come vi dicevo questi sono un mix tra metallo e plastica scusate e ci sono un po' di tutte le dimensioni io preferisco i set quelli con i micro orecchini però anche questi qua non sono affatto male, danno un tocco di luce come vedete ci sono anche fluo e animalier tantissimo animalier di tutte le forme mi piacciono anche tanto questi qua mischiati con vari materiali le nappine che andavano di moda l'anno scorso ci sono ancora e ci sono ovviamente come vedete di tantissimi colori c'è anche una parte in saldo poi ve la facciamo vedere queste sono in legno intrecciate ecco queste qua sono tutte le cose che ci sono in saldo io questi li adoro perché sono in questa plastica rigida che gli danno un tocco un po' vintage ma sempre sempre di moda e la pecca di tiger è che ci sono dei poveri che si fregano anche gli orecchini dei set che costano una cavolata vedete 1,50 euro ne sono rimasti due ed erano tre paia cioè vabbè io non ho parole ancora dello stesso materiale ci sono anche le collane se si vuole fare un abbinamento poi ho adorato queste collanine sottili sottili guardate questo set è bellissimo appunto in estate secondo me danno quel tocco di luce e soprattutto non pesano essendo così sottili e non tolgono un po' il fiato sapete quando si suda fa tanto caldo e magari non si ha voglia di portare le collane vanno ancora di moda le conchiglie quindi se le avete tenete le strette perché ci sono di varie varie forme ci sono le conchiglie vere e anche quelle fatte in metallo io ho preso un set con una conchiglietta in metallo dorato ancora vanno di moda questi anelli questo set di anelli che vanno infilati a varie altezze nelle falangi non sono da infilare totalmente nel dito sono ormai due anni che ci sono fuori questi anelli mi ricordo ancora i primi della Balivo due anni fa quando ho detto fatto ancora cerchi, cerchi di tutte le forme, tutti i colori questi li ho presi sono in legno, li ho presi appunto vi dicevo cerchi di tutte le forme, dimensioni, colori e fantasie e queste qua appunto sono le nappine altre nappine, quelle sono in raffia sembrano in soffa ma sono in raffia e vedete ci sono anelli in plastica un po' più soft, più fluo l'anima lì è ovunque sempre con il fluo questi pendenti un po' anni 80 se devo dire la verità però sono molto molto carini perché sono semplici alla fine sono lisci queste nappine con le perline Tiffany e Rosa e ancora cerchi cerchi di tutte le forme, dimensioni colori, fantasie vedete ci sono sia in oro giallo in oro rosa argento sono molto molto semplici ma vedete costano davvero poco 1,50 euro se uno non vuole dei cerchi senza senza spenderci un patrimonio Primark e non è allergico a metalli strani Primark è un'ottima un'ottima possibilità ecco di scelta vedete ancora conchiglie un po' pacchiani sinceramente questi però c'è a chi piace e sempre dorati i pendenti ci sono anche altre conchiglie e altre fantasie questi li ho presi sono in plastica anche loro vedete mio di più colori e ancora nappine di tutti i colori possibili guardate solo 1,50 euro questi qua belle 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 e appunto tiffani ci sono rosse nere verde petroglio ce ne sono di tantissime tantissime varianti di tantissimi colori anche pazzi che per l'estate sono bellissimi troviamo inoltre anche gli accessori accessori per capelli queste mollettine che appunto vanno intrecciate nei capelli io una volta li facevo con i fiori finti adesso ci sono ci sono già incollavi i fiori finti vedete che belle incollavi i fiori finti alle mollettine questa volta li ho trovate già fatti e quindi li ho presi queste forcine ci sono forcine di tutti i colori che è sempre un casino si trovano sempre forcine nere nei supermercati questi ci sono di tutti i colori in base al colore delle vostre caperte così non si notano quando le indossate e vedete tac prese assolutamente bene fatemi sapere se vi piace questo tipo di video se volete vedere qualcos'altro da Primark e un bacione alla prossima ciao